Per un fallo di Sirigo sulla padula, il direttore di gara fa rispettare ovviamente la distanza, ovvero chiede ai giocatori di rimanere sulla linea di demarcazione dell'area di rigore, parte la rincorsa di Viola, spiazzato Sirigo, si butta alla sua destra, pallone a sinistra, Benevento in vantaggio con la rete di Viola, a rientro Viola. Ancora il pallone buono all'interno della rigore per la conclusione vincente da parte del Benevento con il raddoppio della squadra di Pippo e Zaghi, la rete di la padula, segna lui al quinto della ripresa, Benevento 2, Torino 0, quarta rete, diviato da barba, c'è Singo, prova a rimettere in mezzo alla destra, Zaza! La rete del Toro subito arriva, il gol del Torino a rimettere quantomeno in carreggiata la squadra di Davide Nicola dopo la conclusione di Belotti ribattuta, Singo dalla destra, messo in mezzo di testa. Con Belotti il passaggio per Zaza, la rete del Torino con Zaza, il 2 a 2 del Torino e tutto nasce da un errore da parte di Dabo, un passaggio telefonato per Iago Fai.